ciao a tutti cari, ciao 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 benvenuti o bentornati nel canale allora, in questo video mi piacerebbe assaggiare una cosa molto 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 golosa che è questa qua sono questi qui i confetti misti di Sulmona allora quando ho visto che la Terra d'Italia, che è una marca buonissima a mio parere appunto aveva questa confezione di confetti misti sono impazzita perché? perché io in realtà questi confettini, questa tipologia di confetti la conoscevo già perché seppure sono nata e vissuta in Lombardia io ho origini abruzzesi e quindi questi confetti li conosco molto bene insomma tramite i miei e sono buonissimi per quanto io non ami tantissimo il classico confetto alla mandorla, quello semplice oppure quello semplice al cioccolato non è che non li mangio, cioè se proprio voglia di qualcosa di dolce lo mangio però non mi fanno impazzire gli altri tutto ciò che è un po' diverso dal classico confetto mi fanno morire per non parlare dei classici confetti, quelli grossi che ormai spopolano che a me, io adoro quelli alla frutta però poi hanno fatto centomila gusti perché di base sono al cioccolato bianco e quindi ciao quelli mi fanno impazzire ma comunque anche questi sono tanta roba e visto che è una vita che non li assaggio volevo insomma aprirli con voi vedete praticamente questa confezione contiene il classico confetto bianco alla mandorla confetto all'alpicocca candita questo qui tipo sassolino con delle punte colorate questo è buonissimo perché non sono veri i propri canditi non so come spiegare confetto colorato alla mandorla questo già ha un gusto un po' più particolare di quello classico poi c'è il confetto al cocco candito buonissimo confetto verde al cioccolato e confetto giallo al cioccolato questi praticamente non sono nient'altro che il classico confetto quello al cioccolato normale insomma poi abbiamo il confetto alla gelatina al gusto di limone che sono questi piccolini buonissimi il confetto alla gelatina al gusto di fragola questi sono eccezionali e poi questo che è assolutamente il mio preferito questo qui mi fa morire che è il confetto alla nocciola tostata ed è tutto zigrinato ma comunque adesso questo qui vedete adesso comunque li apro farò questo sforzo per voi e andiamo a vedere un pochino se sono se hanno il gusto che ricordo insomma visto che è veramente una vita veramente una vita che non ha che non le assaggio vado ad aprirli con questa zack 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 questa fulccia anche perché se no mi si rompe il tutto il sacchetto e poi non so più dove metterli ok come potete vedere sono tutti tutti qui allora quelli piccolini con la gelatina di frutta dentro sono questi questo è la fragola adesso è piccolino ma l'ho morto per far vedere vedere com'è dentro vedete all'interno c'è questa gelatina di frutta e all'esterno è confettata buoni tipo questo questo è quello con l'alpicocca candita mi sa quello che abbiamo detto prima questo non me lo ricordo com'è è simile a quello piccolino che ho mangiato però dentro in effetti non è gelé ma non sembra neanche un candito non riesco a definirlo o è un candito diverso sicuramente da quelli che troviamo nel panettone per dire che a me non piacciono c'è un misto di aroma tipo di mandorla assieme non lo so comunque è buono poi io volevo vedere se riuscivo a trovare mi sono già dimenticata quello che ho letto ah no quello che ho mangiato mi sa che è questo ragazzi confetto colorato confetto colorato alla mandorla infatti sapevo di mandorla quello è la picocca mi sa che è questo qui mi sa che no è quello da mandorla questo questi me li voglio mangiare tutti cioè non in una volta sola però questo è spettacolare c'è proprio la nocciola tostata intera dentro e lo zucchero fatto così tutto tutto zigrinato buono buono questo quello al limone sono troppo buoni anche questi questo qua piccolino al limone con la gele dentro è più buono di quello la fragola secondo me quello al cocco non ho capito qual è quello al cocco ah ok perché è simile a questo qui però è rotondo quello con la i puntini e dove caspiterina lo trovo sarà questi qua sarà questo qua quello al cocco per forza vediamo dentro è così boh non mi sembra al cocco cioè non ce lo sento tanto il cocco proprio appena 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 poi vabbè c'è la classica al cioccolato quello l'alpicocca probabilmente no no questo è quello la fragola sicuramente questo è quello l'alpicocca mi sa però come faccio li andiamo tutti fuori eh sì è quello in fondo non ci arrivo o li devo mangiare tutti così poi vado in gomma al licemico no questo è quello da fragola non lo trovo oh adesso inizio a fare danni tanto i coniglietti di sotto che mi mi bussano la gamba perché pensano se lo confondono con rumore del sacchetto di crocchini mi sa no devo però lasciarli e vabbè ama gli estremi estremi rivedi allora dove caspita ria eccolo l'alpicocca se adesso non sono stati alpicocca mi arrabbio comunque sappiatelo ma che ne hanno messo uno cioè veramente ce ne sarà uno in tutto il sacchetto di questo davvero non vabbè ok finalmente scopriamo com'è quello l'alpicocca allora è tipo i piccolini quelli alla fracola e al limone ma sono molto più buoni quelli piccoli questo qui non lo so è molto molto meno dolce più che altro perché il confetto è più morbido ha proprio una consistenza diversa dal classico confetto allora ragazzi visto che oggi è giornata di sgarro io finirei con un piccolino al limone che è buonissimo buono cioè quelli al limone me li mangerei tutti buonissimo e col mio preferito un altro alla nocciola tostata poi direi che va bene così li mettiamo nel sacchetto visto che questo è spaziale perché lo zucchero fatto così tutto tutto un po' zigrinato ha un effetto diverso dal confetto liscio e in combo con la nocciola tostata ragazzi è una bomba è veramente buonissimissimissima ok diciamo che per questo video è tutto spero vi abbia potuto incuriosire questa varietà un po' così particolare di biscotti sì ciao ciao di biscotti di confetti e fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video in modo che magari quando trovo delle cose un po' particolari un po' così vi faccio un video saggio io vi mando tanti 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 bacini come sempre spero che riusciate a fare tanta nanna bella oppure se state guardando questo video di giorno che possiate ripartire carichi a mente fresca belli sereni e rilassati ci vediamo se vi va la prossima volta tanti baci e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti carichi